Ben ritrovati amici! Vi piacciono le sfide? Fate come me! Iscrivetevi ora al nuovo canale YouTube Quiz & Dovinelli per te! Metti alla prova le tue conoscenze con fantastici quiz su calcio, cartoni animati, cultura generale, musica, film, storia, geografia e animali. Ogni video è un divertimento assicurato da condividere con amici e familiari. Quiz & Dovinelli per te! Quiz & Dovinelli per te! Iscrivetevi al canale! Ora è tutto completamente gratuito, garantito da Sette De Coppe! E ben ritrovati ragazzi! Ben ritrovati ancora una volta nel canale del vostro amico Sette De Coppe! Dai e un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo! Se non sei iscritto al canale, tenete iscritti al canale qua, pollicione in alto e partiamo! subito! Game over ragazzi! Game over a Tricorio! Comanda solo Lina su Lugo! Decide tutto lei! Addo sta Lina! Addo sta Lina! Addo sta Lina! Adesso andiamo a vedere nel dettaglio le notizie di cosa è veramente... si è veramente arrivati all'esonero di De Rossi! la decisione di Juric! Fatta così all'ultimo minuto! Non era in previsione ragazzi! Questo già ve lo vado ad anticipare! Ma comunque sia state sintonizzate! eccoci qua ragazzi! Eccoci qua! Ancora un'altra volta un altro bel video pomeridiano! Andiamo a vedere, ad analizzare com'è la situazione con le notizie, con le news che vi riporto come sempre tutti i giorni! Iscrivetevi al canale ragazzi perché questo è l'unico canale dove ovviamente potete trovare un servizio è gratis! Potete iscrivervi tutti quanti, sera live, a volte sì, a volte no e durante il giorno le notizie con il video quotidiano! De Rossi è stato esonerato! Vedo tantissimi tifosi si sono incazzati! Sono veramente tutti quanti incazzati! Ieri sono andati addirittura sotto casa di De Rossi a mostrare degli striscioni di affetto all'allenatore, ex allenatore della Roma però adesso dobbiamo pensare al presente e benvenuto Iunice! Cosa è successo ragazzi? Dall'ultimo video che vi ho fatto, poi ieri chi ci stava durante la live ve l'ho anche raccontato dall'ultimo video che vi ho fatto ragazzi, quando sono arrivati Fridkin a Roma da tutto quello che trapelava da Tricoria, ma non solo a me, non solo a me anche per quanto riguarda i giornalisti e per quanto riguarda anche il buon Biavora che l'ha raccontato anche in radio tra l'altro, se non l'avete sentito, ascoltato andatelo ad ascoltare, non mi va adesso di farvelo ascoltare ragazzi comunque sia, non ho bisogno di giustificarmi assolutamente per le news che riporto è inutile che fate i cargi con me, io ho sempre riportato le informazioni esattamente come sono uscite, come mi sono arrivate, esattamente come hanno riportato anche gli altri, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, però comunque sia erano quelle le notizie, non era previsto assolutamente l'esonero di De Rossi imminente, ovvero nell'arco di 24 ore post partita o Genoa quando esattamente sono venuti Fridkin nella notte di lunedì questa è la situazione ragazzi, tra la notte di lunedì e la mattina di martedì qualcosa è scaturito dall'interno, questo non lo possiamo sapere né io né giornalisti né nessuno, vi ricordo che non sono giornalista ragazzi qualcosa è scaturito, quello che c'è stato, il summit del lunedì che poi è andato ovviamente è andato pure a prolungarsi nei giorni successivi perché ci sono stati due cancellamenti di allenamento ragazzi, il martedì è stato cancellato l'allenamento appena che hanno saputo che Fridkin sarebbe arrivato a Roma, là c'è stato un ordine hanno cancellato l'allenamento proprio per questo summit e c'è stato anche una cancellazione dell'allenamento del martedì mattino, infatti poi avete visto che ieri quando è arrivato Juric ha portato avanti il discorso degli allenamenti durante il pomeriggio quindi durante il lunedì ci sono state una serie di summit, ho riportato esattamente quello che usciva da Tricoria ragazzi ed era proprio quella la notizia che non c'era un esonero imminente per De Rossi, gli avevano dato ancora fiducia almeno fino al 6 ottobre quello era l'ultimatum ragazzi, ve lo ricordo sempre c'era un ultimatum addirittura c'è qualcuno che ha riportato, questo l'ho visto, la partita con Ludinese addirittura una partita solo e ovviamente per un ragazzo, per un allenatore come De Rossi a cui è stato promesso un triennale, un progetto lungo triennale, gli è stato detto che gli si sarebbe dato più tempo, adesso da dove è uscito questo ultimatum? Ovviamente per lui ragazzi che avete visto è abbastanza impulsivo, non possiamo mai sapere quello che è successo all'interno e ripeto queste cose non lo possiamo sapere né io e né gli altri ragazzi, non è dato sapere queste cose qua, sono cose che vengono dall'interno, dal board, dal direttivo di Tricoria ed è difficile avere questo tipo di notizie qua, facciamo una fatica in mane, non sono solo io ma ovviamente quello che riusciamo a riportare, stiamo cercando di dare il nostro meglio, io e giornalisti mi ci metto io qua perché questo è il canale mio, non sono giornalista però sto cercando di ricostruire i fatti come sono andati, poi se vi piace ascoltare quelli che vogliono tirare l'acqua nel loro munino potete ascoltare qualunque altra persona che qua si voglia ragazzi, gli è stato dato un ultimatum e De Rossi non l'ha presa assolutamente bene, ecco perché poi da cosa è scaturito il licenziamento in tronco dalla mattina durante la seduta degli allenamenti che poi sono stati, come vi ho raccontato, sono stati annullati e posticipati durante il pomeriggio. Quindi sì, è vero, l'Ina Suluku ha chiamato i Fridkin, c'era un'aria irrespirabile a Tricoria, c'era tanta confusione ragazzi, confusione in campo, si vedeva durante le partite confusione per quanto riguarda ovviamente il fattore della comunicazione tra lo staff di De Rossi, De Rossi stesso, i giocatori, il direttivo di Tricoria che ormai non comunicava più con il giocatore e con l'allenatore De Rossi e nemmeno con i giocatori ragazzi, quindi diciamo sono venuti i Fridkin a Tricoria per cercare di sistemare la questione. La questione è stata che loro hanno cercato di sistemarla dando un ultimatum a De Rossi ma purtroppo la situazione è precipitata notevolmente e siamo andati incontro all'esonero. Questa è la situazione ragazzi, comunque sia, molti stanno dicendo perché è stato esonerato De Rossi, perché ha avuto degli attriti con l'Ina Suluku, hanno litigato con l'Ina Suluku, ha litigato con Ghisolfi, non è assolutamente vero che ha litigato con Ghisolfi perché all'uscita di Tricoria quando De Rossi stava andando via ci sono foto e video che attestano che lui si stava abbracciando con Ghisolfi. Questa è la situazione ragazzi, invece con l'Ina Suluku purtroppo non c'è mai stato un bel rapporto. Questo è da dire ragazzi, ma è stato veramente licenziato De Rossi per gli attriti che aveva con l'Ina Suluku? No ragazzi, non è stato licenziato solamente per questo, mi dispiace ma De Rossi è stato licenziato anche e soprattutto, ripeto, soprattutto in primis per i risultati sportivi che tardavano ad arrivare e gli americani vi posso assicurare che già di loro per natura ragazzi sono molto molto attenti ai numeri e ai risultati sportivi. Si parla a livello di business, di calcio questi non capiscono niente, ma non è che ce lo devono raccontare alle radio, ci deve stare qualcuno che ce lo debba venire a raccontare ragazzi, ce l'aveva già detto l'ultimo allenatore che hanno cacciato loro prima, questi di calcio non sanno niente, solamente che quando l'ha detto quell'allenatore precedente, tutti quanti si sono messi a ritere, a battere le mani, a dire bravi Fritkin avete fatto bene, loro essendo americani ed essendo uomini di business, lasciamo stare il calcio adesso per il momento, sono molto molto attenti ai numeri, gli ultimi numeri di De Rossi sono impietosi, sono a quanto impietosi ragazzi e purtroppo questo poi è arrivata l'ultima decisione, ultimatum che non è stato accettato dall'allenatore, esonero in tronco con la mattina che ha dovuto lasciare, ovviamente è stato sollevato dagli incarichi ed è ritornato a casa, questa è la situazione ragazzi, l'errore è stato fatto, certo che è stato fatto, è stato fatto o da un lato o da un altro, è stato fatto o dall'altro, lascia a voi la scelta ragazzi, o dal primo, dal primo errore che è stato fatto è quando lo hanno preso De Rossi e gli hanno fatto il rinnovo di tre anni, finito De Rossi dobbiamo dire grazie, è traghettato la Roma fino a giugno e magari troviamo un altro allenatore grazie di tutto e ti diamo, ti auguriamo tantissima buona fortuna per la tua carriera di allenatore, invece gli hanno fatto un rinnovo di contratto triennale, queste erano le notizie che uscivano anche senza obiettivo Champions, ok? Questo era quello che usciva ragazzi a 3 milioni e 3, equivale a dire 3 milioni e 3 anni, quindi a 3 anni 20 milioni lordi, circa 10 milioni 20 milioni lordi ragazzi, adesso con la buona uscita vediamo se De Rossi rifiuterà questi soldi qua o se li prenderà tutti, questo poi lo andremo a vedere ragazzi, quindi l'errore o è questo o è stato quello di Esonerano, lascia a voi la scelta, fatemelo sapere sotto nei commenti ragazzi, secondo voi è stato un errore prendere De Rossi a quelle cifre o è stato un errore ad Esonerano? In tutti e due i casi hanno sempre sbagliato, su questo non ci piove assolutamente, De Rossi ha fatto quello che doveva fare, se gli fanno un contratto del genere a un allenatore che lui stesso si è riputato ovviamente principiante perché ha avuto solamente 16 panchine alla spalla ragazzi, a Ferrara e poi è stato esonerato, 3 milioni e 3, mi ci gioco tutto quello che volete ragazzi, non vedo per adesso nessuna nessuna, nessuna squadra al mondo che possa dargli quel tipo di cifra a De Rossi per quanto riguarda lo stipendio, magari in Arabia Saudita ma non credo che De Rossi vada in Arabia Saudita, comunque sia lui ha preso l'occasione a base ovviamente, ha detto certamente che firmo tre anni, mi prendo questa responsabilità anche per l'amore della Roma all'inizio ma poi quando tu firmi un contratto di tre anni ovviamente puoi prendere anche le critiche da allenatore, ma i Fritkin sono intransigenti ragazzi e soprattutto l'Ina Suluku che è la CEO, amministratrice delegata dell'AS Roma e quella che risponde per voce De Fritkin, occhi, bocca, orecchie De Fritkin dentro Tricoria ragazzi, questa è la situazione, ha licenziato tantissime di quelle persone e calcolate anche che la situazione andrà ancora di più a degenerarsi per quelli che ovviamente fanno fatica a comprendere qual è il punto principale dentro un organigramma societario, gente che stava dentro Tricoria che per prendere una penna ci andavano in 30 ragazzi, quindi è inutile che ce l'avete anche con l'Ina Suluku, anche io sono un cazzato a quanto voi, quindi questa è la situazione ragazzi, voi siete d'accordo con questo esonero o pensavate che era meglio non fargli quel tipo di contratto, dove è la programmazione? Questa è la domanda che si fanno tutti quanti ragazzi, non so che tipo di programmazione ha la Roma al momento, anche perché loro non parlano e non ce l'hanno mai detto, secondo le ricostruzioni che vi ho sempre riportato almeno per quello che so io, fino al settman agreement alla fine del settman agreement 2027, la Roma cercherà sempre di investire sui cartellini di giocatori che saranno futuribile esattamente come ha fatto quest'anno e ci saranno tantissime divergenze anche con i prossimi allenatori che verranno e vedremo adesso con Juric che è un allenatore che ha fatto la cavetta, ha allenato Crotone, ha allenato Verona, ha allenato Genoa, ha allenato Torino e cura molto la fase difensiva. L'ha scelto Lina Suluku con Kisofi tramite il suo agente Beppe Riso che ha già ben tre giocatori dentro la Roma, uno è Cristante, uno è Mancini e l'altro è Baldanzi, quindi questa è la situazione. Adesso Juric ha un contratto secondo il comunicato ufficiale fino al 2025, molti parlano di un rinnovo automatico in caso di Champions, ragazzi sarà molto molto difficile raggiungere la Champions, era stato chiesto a De Rossi di raggiungere la Champions, ovviamente sarà chiesto anche a Juric di raggiungerla e hanno fatto il contratto di un anno più rinnovo automatico in caso del traguardo Champions League e questo però poi è quello che ha fatto traboccare la goccia dal vaso, ragazzi è stato pure il fatto che De Rossi quando è andato ultimamente al microfono è andato a dire o Champions o non Champions, tanto non conta niente nel senso o ci andremo o non ci andremo, sempre questa è la situazione non è il traguardo principale invece dalla società, arriva direttamente che la Roma ha fatto 120 milioni di mercato e l'obiettivo è quello di raggiungere la Champions League ci riuscirà Juric ragazzi? Non lo possiamo sapere però ovviamente il calcio non è mai una scienza esatta e quindi rimaniamo con il dubbio e tifiamo Roma anche nelle prossime partite come sempre ragazzi con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video aggiornamento, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, commentino sotto, iscrizione al canale, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e mi raccomando attivare la campanella per tutte le notifiche e gli aggiornamenti, ciao a tutti, forza Roma e ci dare sempre la fuente, ciao ragazzi! ciao